La Meccatronica arriva a Taranto con un corso di alta specializzazione e sbarca nel capologo ionico l'ITS Cuccovillo di Bari, che su invito di Confindustria Taranto avverrà un corso di Advanced 4.0 Meccatronic Specialist a partire dalla nuova anno accademico. In questo modo Confindustria e l'ITS Cuccovillo offriranno alle imprese associate una proposta formativa nuova con l'intento di formare i giovani del territorio all'acquisizione di competenze di cui ormai vi è sempre più bisogno. Il corso è stato presentato nella sede degli industriali ionici riservato ad un numero limitato di diplomati sarà ad accesso interamente gratuito in quanto candidato a finanziamenti con fondi europei approvati da Regione Puglia e Ministero dell'Istruzione. Abbiamo fatto tante riunioni qua, programmatiche, abbiamo fatto incontri con le aziende, con Confindustria eccetera, quindi è stato questo bellissimo lavoro di squadra devo dire e finalmente possiamo offrire un bellissimo corso di avanzato, di meccatronica avanzata per i ragazzi e le aziende di Taranto. Anche per fare il pane, per fare la pasta c'è bisogno della meccatronica perché i cicli di lavoro, le catene di montaggio sono gestite dalla meccatronica, quindi l'operaio oggi non è più quello che mette le mani ma è quello che programma un attrezzo, una macchina, un macchinario. Un'occupazione nei quattro mesi successivi al conseguimento del titolo di tutti i ragazzi che conseguono la formazione nell'ambito del settore della meccanica e della meccatronica.